Il trapianto di fegato al centro di un convegno ospitato dall'emiciclo è organizzato dal professor Antonio Greco del Gemelli e dal dottor Alessandro Grimaldi, primario di malattie infettive all'ospedale dell'Aquila. Un momento di approfondimento molto importante e di attualità alla luce anche dei casi molto diffusi e ancora sconosciuti di epatite nei bambini. Fortunatamente in Italia i casi sono pochi. Ovviamente c'è molta attenzione rispetto a questi casi diffusi soprattutto in Inghilterra dove ci sono stati già diversi trapianti. Ancora non si conoscono le cause, potrebbe essere un virus, un adenovirus. Chiaramente quello che ha preoccupato molto i casi di insufficienza epatica severa che in Inghilterra hanno portato alcuni di questi bambini per salvargli la vita proprio al trapianto d'organo. Quindi il trapianto d'organo di fatto è una terapia salvavita molto importante ed è il motivo per cui oggi siamo qui per rafforzare questa collaborazione col Poliglinico Gemelli che è uno dei centri trapianti più validi in Italia. L'Abruzzo ha una convenzione importantissima quindi gli abruzzesi debbono sapere che c'è un canale privilegiato verso questo importante ospedale. Relativamente al trapianto di fegato purtroppo le richieste di trapianto sono molto numerose e non sempre si riesce ad intervenire ma il trapianto resta un'opzione salvavita. Il convegno ha ribadito la collaborazione con il Poliglinico Gemelli di Roma che è un'autentica eccellenza e con la quale la regione Abruzzo ha una convenzione. Al professor Grieco il compito di fare un bilancio della convenzione con l'Abruzzo che ha permesso di ottenere buoni risultati. Si è fatto il punto durante la mattinata delle donazioni di trapianti in Abruzzo e Molise, si è parlato di Covid sempre in relazione al trapianto di fegato, di epatite C ed E con un focus importante sulla gestione del paziente e sulle nuove prospettive del trapianto di fegato. Era presente il cardinale Giuseppe Petrocchi che ha portato il suo saluto, il gemelli e anche l'ospedale di Papa Francesco. Un fatto importante che il convegno si sia tenuto all'Aquila a sottolineare un asse privilegiato tra l'Aquila e Roma che potranno collaborare in campo medico. Tantissimi professionisti che hanno preso parte al convegno, compreso il professor Antonio Gasparrini, autentico decano in questo campo. Sono alte le richieste di trapianto di fegato? Beh sono abbastanza insomma, purtroppo non abbiamo abbastanza organi e questo rende la vita, la nostra vita più difficile.